Il contratto Io non le voglio mettere fretta, però il suo contratto sta per scadere Ma me lo dice così all'improvviso Pronto Franca? Astolfo, sei tu tutto bene? Ti ricordi che io avevo una casa al paese? Ancora gamba questo? Oh! Oh! Chi sei? E questa è casa mia, da quanto tempo ci stai? Sei, sette, otto anni Ma che è sto? Questo era il salone di casa mia Eh? E questo stava già così quando sono arrivati i preti Piano piano se la stanno mangiando tutta sta casa A casa sua si sono raccolti i peggiori sbandati del paese Sono tutti occupati le stanze? No, no, no Anzi Insomma, chi ci viene in questa casa? Allora io, lui e loro vanno o vengono Che mi baci Baci Di amore Mi baci Ho conosciuto una signora Ti piace? Beh sì che mi piace E allora Io oggi le ho fatto il messaggino E lei mi ha risposto Oh E mi perdono i tuoi baci Mamma, chi era quello? Un amico Questo è uno in cerca di soldi Ma che c'entrano i soldi? Tu Io che cosa le potrei offrire? Io sono vecchio Noi non siamo vecchi Noi Siamo leoni Come stai? Oggi Sono proprio felice Che sta bene Uffo Astolfo R��� Amore Sei tu che mi baci Un amore Sei tu che mi baci Grazie a tutti.